Vediamo com'è. Ok, farà non mi vedo mai in craft. Ok, farà non. Ok. Vediamo un po' come la va. Ok, la chat l'ho sistemata. Allora, sistemiamo la finestra. Vabbè, per ora si vedrà così. Bitrate sembra andar bene. Ok, non si vede benissimo, però meglio di prima. Allora, per almeno si vede. Bomb, perfetto. Perché mi dice che sono ancora offline? Non lo so, vabbè. Allora, il compass. Ah, mi serve... Un osso. Vabbè, siamo un po' al volume. Mi ha dato l'osso, perfetto. Allora, mettiamo giù un po' di roba. Poi, che altro? La cannone da zucchero che ne ho una marea. Queste... Gli attrezzi mi ritengo dietro, le plank le mettiamo giù. Allora, cosa servo? L'osso. Se non me sbaglio, però... Ma sono online. Sì, sì, sono online. Solo che non si è aggiornata sta finestra qua. Vabbè. Vediamo. Allora. Anche nel grinder, perfetto. Ok, allora, questo qua, qua mi servono dei sapling. Ok, ne ho 5, perfetto. E poi, 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 poi... Il wood, proprio. Per cui mi servono queste. Ok. In quella direzione. Allora, che altro potrei riuscire giù? Facciamo un'altra cesta. Plank e sassi. Plank e sassi. Ok, sassi ce l'ho. Plank e sassi ce l'ho. Ok. 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 Allora, sassi ce l'ho. Allora, sassi qua. La mela porta dietro al campfire, lo mettiamo giù. Il sale lo mettiamo giù. Ok. Questi dovrei piantarli fuori casa. E li piantiamo qua. Ok. Che così ci liberiamo uno spazietto. Poi, vediamo... Gli Inksak, mettiamoli giù. La clay. Paffanculo. La clay, mettiamola giù. Quelli non li posso mettere giù. Questa la teniamo capaggiata. Vabbè, la spear la mettiamo giù. Questa la prendiamo che ce le mangiamo. Potremmo cuocere delle patate. No. Quante patate ho? Cuocciamo dieci patate. Ok, e dieci li mettiamo giù. Questo lo possiamo mettere giù. Ok. Esatto, sì. Allora, questo lo mettiamo giù. La blade lo mettiamo giù. Ok, questo è per chiudere casa. Aspettiamo che ci siano le patate pronti e poi andiamo. Ok, questo è per chiudere casa. Ok, l'audio si sente. Ehi, esatto. Questa è la cimone bella. Di là. E ce ne andiamo con calma di là. Speriamo di trovare qua, allora cosa mi serve, mi servono ossa e piume, ok, 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 andiamo, attrezzi di scorta ne ho, sì, perfetto, esattamente dal lato opposto, ok, speriamo di ritrovare casa, allora squid dovremmo essere a posto, questi raccogliamoli che sono utili, comunque questo cosa faccio, al momento niente per cui lo buttiamo via, questo buttiamolo via, le rocce premiamolo perché mi possono tornare utili, ma il maialino non cediamolo per ora, il bush ce lo portiamo via, aia, piante carnivore maledette, qua stanno crescendo, ah, là ci deve essere casa di qualcun altro, sapling, 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 hai un sapling, allora, io spero di ritrovare casa mia, l'acqua, ok, si vanno sempre bene, qui qua, l'acqua, ok, ok, di chi è la tomba? ok questo non è ancora cresciuto che mi dice? perchè se non metto ok adesso ho la darkland ma scusate vai porco e intanto becchiamo un mister lost buongiorno ora oggi tutto minecraft o alterni più tardi con i neonetti non lo so penso che farò stasera i neonetti oggi voglio rilassarmi un po' con minecraft perchè ne ho bisogno max mi scavo tutti questi giorni tutti questi giorni di lavoro ho bisogno di relax non c'ho voglia di mettermi come si dice a servellarmi quei nani ok ok provo a collegarmi in ts vediamo se allora aspettate un attimo speriamo che non esploda tutto mi sembra giusto non dirlo a me sul relax dopo l'ora sto finendo adesso avrò metto un'ora e metto il treno per casa mi dice buon viaggio max allora allora questo speriamo che regga il tutto ok dove è andato lost hola lost come mi senti? no no come mi senti? ok ok no perchè io sto laggando aspetta eh eh no mi sa che non reggo si no mi sa che non reggo né stream né ts in contemporanea ci sentiamo via chat dai perchè vedo anche che laggo proprio nel raccogliere le cose ci sentimo via chat ciao ci si ciao 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 intanto io raccolgo tutto quello che trovo ah posso far meno di jumpare adesso due stavolost ah ok eccolo qua l'ostra un po' di relax con questa pioggia infernale no creeper 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 la spada d'osso almeno gli do qualcosa ok ok Grazie a tutti. Miiiiichia sarà... ...go... Oh, gli sticchetti! Dovrei raccogliere perché non ne ho tanti. Ehm... Ehm... Minchia sarà... Ehm... ...go... Ehm... 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 Ok, meglio di niente ragazzi, piuttosto di... Ehm... 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 Ciao lost! Ciao lost! Ah... Io c'ho l'inventario pieno di merda come al mio solito! Ehm... Perché voglio prendermi sempre tutto! Ehm... Aspettiamo che venga giorno! Ehm... Ehm... Almeno è finito di piovere va! Ok, sta sorgendo il sole! Andiamo va! Tombo! Ok! Occhio creeper! Ciao Kira! Come va? Come si sente la live? Dimmi un po' e come si vede soprattutto. Io ho perso lo... ah no, eccolo la. Ho riperso l'host. Ah no, è quello la. Ok, ritrovato. Ok. Ok. No, il bitrate è sempre a 500, solo che sono collegato ad un server di Minecraft che è qua in Germania, però ne risento. Però ho voglia di giocare a Minecraft in compagnia, per cui... E allora il diavolo ho la qualità, insomma. La gravel mi serverebbe. Vediamo se ha spazio in inventario, sì. Facciamo incetta di gravel. Ciao Gianfro! Ma abbastanza bene dai, è un po' stanco. Ieri non sono riuscito a farla live perché ero K-O dal lavoro, però... No, 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 tu qua. Però oggi faccio un po' più di live. Vabbè che devo guardare di non prendere più di 64. Vabbè per 7 day to die volentieri tira. Se riesco a collegarmi... Tecmo va già ancora tutto a posto, tutto bene. Allora buttiamo via questo. La gravel me la prendo. Ho perso l'host. Allora in quella direzione. Sì, sono in un server, per ora sarà privato. Poi vediamo più avanti se lo mettiamo pubblico o altro. Qui ragna al momento non ne vedo. Allora. 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 E noi ci tocca andare via male. Wa taf? Come va? Quando si dice che i non cartoccio... Chi non muore si rivela? Minchia. A chi lo dici Paolo? Come va te? Quindi ci sarà il ritorno di tutti quanti, cartoccio, teo eccetera? Non lo so. Il... Il teo è già salito. Il toccio non lo so. non lo so no, non lo posso mettere la dark non so perché non avevo più il follo ma tanti l'ha tolto Paolo, non so quel perché allora, vediamo cosa posso buttare no, la gravel mi serve le fibre potrei sbuttarle vabbè, io intanto mi faccio la strada dalla parte di là faccio un piccolo cambio, metto queste e le patate me le mangio dopo io sono in Germania, Paolo non so se lo sapevi, mi sono trasferito qua in Germania lavoro qua in Germania insieme con la Morosa cioè non è che sono lavoro con la Morosa sto insieme con la Morosa viviamo qua in Germania ormai è un anno e qualche mese e non ho una connessione stabile perché sono appoggiato con quella del padrone di casa però diciamo che va abbastanza bene io ho già guardato il fiume il nostro canale sta spento pertanto il follo si cancella in automatico ma è un fiume o un mare questo questo intanto prendiamoli poi sarà bello tornare a casa da qua maledizione con calma e con tranquillità ci proveremo basta che in teoria vado all'opposto della stanghetta minchia è simpatico Twitch ma c'è tanta gente che mi ha detto che ha perso il follo se ci sono tre piragne di fronte a me vediamo un po' se girando di qua li evito pecore maledette che brucano allora lost ma tu che mi senti in live io la cosa ce l'ho per le darklands forest vero come bioma non so tu dove cavolo sei morto 375 metri mi dice no no è bellissimo come pacca ok proviamo oh vedo la terra dall'altra parte si è un mezzo lago questo non è un fiume se muoio adesso bestemmio ok ho fatto fuori tre piragne non so come si fa la zattera eh torna indietro sono in mezzo al mare ormai spero di recuperare l'energia velocemente eh ormai sono quasi di là lost nel frattempo il tarf non bestemmio che poi ti arriva Twitch e ti sgrida no no tranquillo non mi parte nel bestemmio almeno spero per fortuna che avevo un bel po' di barri dietro con me no l'ha laggata adesso no te prego e di là ma io vado su di qua intanto lost mi sa che vedo la tua tomba si sono la tua tomba lost sono qua la tua tomba lost ecco a fianco chi io no quando vai mi sa che sei un po' pieno le po' di Twitch non mi fanno ridere se metti per pubblico tutto ti cazzano solo se vai di blasfemia pesanto se qualcuno ti sognano di proposito sti cazzi sti cazzi ok c'è anche un tempietto qua l'ho visto in edificio da parte di sta montagna sì sì l'ho visto pure io però sto laggando a merda e non riesco a fare niente porca di quella sto cazzo di auto non sono più capace di saltare ok questo bisogna lasciarli stare che più avanti si sente l'eco del gioco stai in voice con qualcuno stai con le casse sto con le casse però mi pare strano che si senta l'eco si sente tanto l'eco? abbasso un po' l'audio del gioco bisogna andare di qua lost io propongo di scavarci un buco e ritannarcici dentro non si sente soprattutto con il rumore ci vuol dire quando mangio picchi mob probabilmente perché ce l'avevo troppo alto c'è un villaggio c'è un po' l'audio del gioco cazzo non ho ancora risolto i problemi di minecraft che mette il coso fatti direttamente una casa scavata a sto punto oppure ti piazza abusivamente nel villaggio no penso che ci piazzeremo abusivamente nel villaggio sì ti piacerebbe trovare la cesta eh? la lina che mi servono le piume aspettiamo il giorno ora il tuo pubblico mi uccide perché? cosa combini Kira? no minecraft cioè sai che non lo so? cioè dovrebbe avere allora c'è il gioco di minecraft con la storia ma minecraft di per sé non ha una storia di base lost non guardare fuori bello che c'ho momenti che non ho ping momenti che pingo tantissimo vabbè tra un po' ho rotto anche la pala ma vabbè tanto la pala di pietra perché non ci sono problemi al momento la storia è che sei uno stronzo buttato in un mondo e devi fare lo stronzo c'è un altro stronzo beh beh e costruendo cose Kirani interiore la risposta giusta è niente ci sta un lore ma non meglio specificato diciamo che la lore è iniziata a tirar fuori come anche la storia come si chiama per capirci con i capitoli usciti singolarmente sì esatto la lore è venuta fuori lì io ho già fatto un tonno allora in teoria è giorno per cui potremmo anche uscire la trombetta lost? Ahia! L'immortè! Sai vero che quell'altro metto è uno scheletro invisibile che ti spinge nei fossati e ti segue per sempre? Sì, 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 no, no, lo so. Uh, altre piume, ottimo. Ok, lost, riprendiamo il nostro viaggio. Tu ciappati le berri che mi ciappo... del berelli. Uh, ecco la Darkwood. Buo, il portale non lo so. Enter the Darklands! Emo, divertiamoci a tirar giù gli alberi. Però, sinceramente, questo non mi ispira, perché non vedo attorno a me. Allora, che butto via, che butto via... Così posso ottenere i semi? No. Lo ho caputo. Ciao, potresti consigliare in modo pac-figo come quello di Gabby, se lo conosci? Ciao, ma no, non lo conosco. Beh, la Save Tech è figa. Incasinatissima, ma è figa. Se no c'è la Torque in Craft 2. Terra Firma Craft. Che parola trovi sull'ati launcher, Terra Firma Craft? Anche Terra Firma Craft sarebbe carino. Ok, si è rotto l'accetta. Ok, si è rotto l'accetta. Minch, la Torque in Craft 2 è rimasta la 1-1. Sarebbe un modpack con tanta avventura, mob minerali, dungeon, cose? Cos'è così? No, per quello c'è. Aspetta, che ti dico? Cerca su Twitch Launcher il RAD. Roguelike Adventure. Lì ci sono minerali, c'è un bel po' di roba. Magari adesso la dirt la spacco a mano per salvaguardarmi la pala. Ok. Oh, perfetto. Rieccomi, visto che devo aspettare un'ora il treno, se non disturbano, potrò fare due cacchie. Oh, Max, volentieri, nessun problema, tranquillo. Sai che per me fare due chiacchiere mi fa molto, molto piacere. Salve, signor villager. Noi siamo arrivati da là, ok. Ok. Allora, ok. è un casino di prima categoria ma secondo me è bellissimo tipo devi proprio fare l'avanzamento delle varie ere le cose le sblocchi man mano che vai avanti non hai subito tutto se trovi qualcosa che non conosci te lo fa tipo buttar via perché ti dice ah non conosci questa cosa non sai cosa farne buttalo via buttiamo via le pietre ok e piove maledizione guarda come sta andando l'opera della nuova mansione operativa non lo so non lo so l'ho fatta mi hanno chiesto di fare due giorni invece che uno perché avevano bisogno di una mano mi sono divertito è stata bella ho scoperto di avere muscoli imposti del mio corpo che non pensavo ci fossero tipo sotto le ascelle ho come si dice da me la carne greva cioè come si dice male ai muscoli o comunque poi è andato bene mi sono divertito ho fatto la mattina di ieri dell'altro ieri come prova poi al pomeriggio sera ho lavorato in cucina infatti per questo ieri sera non ho fatto la live anche perché sono tornato a casa e c'avevo da fare i mestieri per cui ci ho messo un po' non lo so max spero sia andata bene sto pack è uno scusato un pugnettone o due mani per chi ama tfc e pack simili in crucolandia al momento sono un semplice lavapiatti se tutto va bene dovrei cambiare mansione però questo lo so tra un po' di tempo speriamo in bene allora andiamo a tirar giù quell'albero là che in teoria dopo dovrebbe aver finito si ciao mucca allora vediamo in teoria dovrei raggiungere le due stack con quest'albero non mi ricordo se i i sapling di quest'albero si possono piantare anche se sono fuori dalla darkwood ieri c'è nato in un bel ristorante che era una bottiglia di barolo a calvados finale ho preso abbastanza non soddisfatto eh dio no io non mi lamento mangio sempre in hotel per cui hotel a quattro stelle per cui quando mangio alla sera o a pranzo mangio abbastanza bene ok dovrei raggiungere le due stack con quest'albero sì ne ho fatte anche di più butto via la trombetta e prendo il legno ok fermi 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 che non so quante piume mi serviranno in futuro e io me le ciappo tutte le piume dove stai? ok allora vediamo un attimo perché non vengono fuori gli allerte di Twitch aspettate un attimo eh perché non ah adesso le sta facendo venire fuori vabbè ma si sono viste le ok Twitch box si è si è incasinato oggi ma va bene ok devo ritornare a casa ah minchia adesso troverai la strada per casa allora no non si vede eh me le sta facendo risuonare tutte quante adesso non so il perché allora mi sono perso di là no di là no montagna quello non è il tempio da dove sono arrivato allora andiamo a vedere di là no no la pagina la pagina ce l'ho aperta l'ho riaperto cioè l'ho messa in primo piano adesso ma ho fatto vedere tutto adesso sei nella casetta di primo maledetta te io devo capire come arrivare c'è la casetta di primo perché senza minimappa ho senso dell'orientamento pari a un coguaro allora aspetta però perché l'ovetto serve no vabbè allora ok questo è il portalo ok questo è il portalo questa è la pozza di lava questo è il villaggio l'host mi sente ma penso tramite la live sempre meglio di niente via però rabbit maledetto a te mi pare anche ovvio visto che non so non è io ne t'enties eh ma gli altri non sanno allora io sono al mare c'è uno scheletro dietro di me vediamo se ritrovo dove sei morto ok lì c'è l'isola e qua dove sei morto la zatteratura riesco a recuperarla secondo te l'host ok allora testa di lupo via frint via zatter la mettiamo qua dai ok l'ho recuperata sono disperso poco disperso salve a lei mister poi ok l'ho trovata fare i primi dieci turni di campagna meno per vedere se una certa idea funziona ok allora io in teoria sono arrivato non da là ma da qua e adesso dovrò trovare casa quello sarà un bel casino comunque già aver trovato la tua zattera l'host e tanta roba non è vero non sono un ladro ok quello è il monte è Minchia, avevo due piragna contro Ok Adesso cerchiamo di tornare a casa In teoria la direzione è questa In teoria L'esatto posto Della bussola Sarà un bel casotto tornare a casa Comunque se tutto va bene Adesso che ho trovato le galline Tornando a casa dovrei riuscire a farmi L'Atlas Che è tanta roba Per cui ho almeno una piccola minimappa Se i villager sono ancora Ma qui si può fare la one punch crossbow Sì, sì, potrebbe fare Devi trovare materiali La crossbow Quella che si era fatta il cartoccio Nella Tolkiencraft 2 Che one shottava i mob Sì, bene, oi è Era sottointeso il noi Però penso che la farai Molto avanti in questo pack Allora Cibario Prendiamolo su Uh, il caffè Il caffè mi manca a casa Cazzo, il caffè mi manca a casa Ok Vabbè Cercheremo più avanti il caffè Adesso devo cercare di arrivare a casa Aia Beata te che non ti perdi Ok, no Sono arrivato alla casetta Sono arrivato pure io alla casetta Per cui sono nella direzione giusta No, beh Era 1500 cubetti 1300 cubetti La Darkland Forest Per cui Ce l'ha andata a fare Tutta a piedi Quale che se ti intendevi tu? Scusa Ah, no, no Io sono quella Quella casetta invece Quella dove siamo fermati Per la notte Uh, scusa ma io non volevo Le zucche Le zucche servono Non mi ricordo Cosa posso buttar via Cosa posso buttar via Niente Non prenderò le zucche Devo sperare di ritornare a casa Altro che tucche Qua sta tucci su un lupo Aia Allora Lì c'è un lupo Lì c'è un pesce Un osso Che non so se sono Dovrebbe essere di là Più o meno Dovrebbe essere in quella zona là Più o meno Adesso Aia Piragna Maledetto E lasciami stare Muori Sti cazzi Carote Ok Vediamo No Non è Allora Lì c'è un villaggio Io non mi si avvicinerei Fatta di blocchi d'ossa Soprattutto È il mio villaggio Questo No È un altro villaggio È un altro villaggio Shepard Farmer Ah Questo mi sa che è il villaggio Del Teo Questo mi sa che è il villaggio Del Teo Per cui il mio non dovrebbe essere Tanto distante Uh cotone Allora No Qua butto via le stringhe E anche gli stick Non glielo porto via tutto Per essere del Teo Glielo lascio Allora Sono Piragna Con i cingoli Sì 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 Cioè vanno ovunque Quei cosi Solo che io devo trovare Casa mia adesso Allora Allora Proviamo ad andare Nell'area dura Che se trovo Una pila di terra Se dove devo andare Allora Non so perché, ma il mio senso è veramente mezzo di andare di qua, anche se secondo me sto sbagliando la strada. Boh, al massimo ritorno indietro, no, e invece mi sa che sono giusto, perché quella se non mi sbaglio dovrebbe essere casetta mia, vediamo se c'ha ragione, sì, quella è la mia colonna, sono riuscito a tornare a casetta. Adesso mi devo ricordare dove aveva imboscato il cartografer. Perché qua, se non mi sbaglio, c'è il farmer. Sono usciti dai buchi, questi stronzi. Merda, sono usciti, li avevo imboscati nei buchi e sono usciti, questi bastardi. Questo cos'è? Minchia, vai a trovare il cartografer adesso. Questo è il Fisherman, non mi interessa. No, no, quella è la mia. Aspetta che controllo OBS. Un attimo, ragazzi, che faccio un test. Non si vede. Vediamo adesso. Ma la chat si vede in canale? Quando scrivete, o neanche la chat si vede. No, qua c'è stata fatta piazza pulita di tutti i villager, porca. Ma io li avevo imboscati dentro, maledizione. Ma la chat si vede solo la finestra di un'altra, l'ho notata poco fa. Ora si. Si vede a destra. Adesso è corretto. Però non mi fa vedere il follow, non so il perché. Tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Fletcher, no. Cazzarola. Dove l'avevo imboscato il coso? Il neve è imboscato uno. Vabbè, proverò ad andare nel villaggio del Teo, vedere se ne ha magari uno lui. qui. Intanto però faccio una cosa tattica. Allora. Storage upgrade. Uno di quelli, plank e le dark oak wood plank. Mi servono, aspetta. Plank, mettiamo giù la dirt, anzi la dirt la mettiamo giù qua. Ok. Sassi, sassi, sassi sono di qua. E facciamone uno. Uno. Ok. Merda, sono pieno di roba. Ok, là c'è grave. Mettiamola giù. Qua. Perfetto. Mi sono fatto un buco. Ok. Fatta anche questa. Allora, questi qua. Questi qua. Gli Inksak. Solo sette ne ho? Ruba e vi deve essere il Teo. Eh, devo vedere se ce l'ha qualcosa però. Allora, una petta di Inksak mi servono. Il grano posso metterlo giù. Il barley posso metterlo giù. I semi che ce li ho uguali posso metterlo giù. Il dark oak lo metto giù. Ok. Gravel e plank le metto giù. E metto giù anche questi. Ok. Poi. Se non mi sbaglio. Esatto. Ciò. Allora, ti faccio vedere Gianfro. Vedi queste quest qua. Viola. Facendo queste quest qua. Tipo, io dovrei fare questa. Vado avanti a sbloccare le aeree. Allora, il villaggio del Teo era di là. Eh, fermi. Bussolina, vieni con me. Allora, il villaggio del Teo era di là. Se non mi sbaglio. Aspetta che qua c'è roba da raccogliere. Ok. 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 Bussini. Ok. 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 un'area utile cazzo di lag maledetta ok ma quindi ti ha un villaggio e tu solo una casetta? no Matteo ce l'ha la colonna ahia uh caffè so che mi ricordo dove cazzo era per adesso il villaggio del Teo allora quello quello ok io partire anche di notte no lag pauroso Barry ok non ho dirt con me vabbè pazienza ok la ho capito chi c'è per cui casa di Teo dovrebbe essere di qua adesso pieno possibile salgo su un albero allora eccolo là allora qua non c'è nessuno qua c'è sono due villager però non c'è nessun cartographer l'oste nel frattempo si ammazza questo è un altro villager che è un fisherman non mi interessa non mi interessa dove cazzo se l'ho messo no no uno è qua ma è un fisherman non mi interessa mi serve il cartographer maledizione qui cosa c'è qui cosa c'è c'è guarda qua ci sono due villager ok qua c'è un altro villager ok qua c'è un altro villager che villager è un farmer ok questo lo teniamo qua dentro sicuro perché questo qua servirà fisherman 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 lo cazzo è il cartographer alla ricerca alla ricerca del cartographer sperduto si che è anche vestito di bianco per cui in teoria dovresti riconoscerlo facilmente cioè ci sono fisherman ovunque ma non c'è un cazzo di cartographer salve cazzo non mi dire che devo cercare un altro villaggio shepard ma è da solo quello è il farmer come scrivo il teo 1 2 2 4 3 5 6 6 8 7 8 9 8 9 vediamo se mi risponde cazzo di cartografia maledetto no qua non c'è nessun villaggio eccolo minchia 12 inksak mi servono 8 9 si beh è probabile che ora lo riperdo no maledizione 9 devo cercare ma qua c'è il cotone che glielo lasciamo a teo no questa è troppo piccola come pozzo qua il teo c'è la crema gliela lascio a lui squid dai venite fuori nel frattempo li costruisco che così non sparisce ciao zanfro alla prossima ciao 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 Grazie. Oh, vediamo che adesso mi è venuta fuori, vediamo chi è arrivato, vediamo se si vede in live, più che altro. Non si vede in live. Ciao Max. Che palle. Perché non si vede in live maledizione? Ok, così non scappa. Allora, squid, 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 spawnate squid. Dai, squid, maledetti. Cazzo, 12 Inksak Neo 9, porca boia. Ciao. Ciao. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut fermo la sorella anche se voglio morire con sto caldo, eh immagino. Allora, in teoria il cosa l'abbiamo messo al sicuro. Andiamo a cercare pozze dove posso trovare squid. Ecco, là probabilmente troveremo degli squid. Perfetto. Oltre il piragno. Squid, squid. Niente squid di qua. Dai squid venite fuori. Perfetto, ti do una mano. Tranquillo, toccio quando vuoi. Squid! Porca di quella troia. Però sono buoni, Kira, le sue mozzarelle. Poi, Kira, non capisco perché non mi venga fuori cosa del subscribe, ma vabbè, pazienza. Cioè, ho sentito appena adesso il suono, ma non si è visualizzato in live. Non ci sto capendo più niente con UBS, vabbè. Ok, là mi sa che c'è Fraste e Revan, se non mi sbaglio, potrebbe essere. E qua ci sono un paio di squid. Undici. Boh. Torniamo al villaggio del Teo. Cazzo, ecco cosa mi sono dimenticato, lo stream label. C'hai ragione. C'hai ragione anche tu. Mi sono dimenticato di aprirlo prima della live. Ho aperto solo la finestra, quella del green skin, non ho aperto stream labs. C'hai ragione anche tu. Allora, se non mi sbaglio, il villaggio del Teo è di qua. Perfetto, sì. Ci devo prendere la mano. Sì, sì. Sì, finalmente. Finalmente. Finalmente, cazzarola. kira ho una proposta da farti se hai voglia ma non posso stare in ts ok o su discord perché mi lagga troppo vuoi che proviamo a fare un seven day adesso che c'ho la mappa perché adesso mi sento molto realizzato tempo di tornare a casa si finalmente la mappa fidelmente la mappa mappa rudimentalissima ma ho la mappa ok tranquilla nessun problema ciao cavallo mi dispiace mentre di sacrificare la causa così per sport allora torniamo a casa intanto andiamo a vedere casa di 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 sharp e di e di e di raven no no tranquilla nessun problema pensavo fosse a casa libera allora se non mi sbaglio mi hanno detto che di là esatto che vediamo come sono messi loro allora di qua non si passa devo fare il giro magari non corro dai davvero sono contento mi dispiace solo che parlo poco ma è perché non cioè non so cosa dire al momento se quelli sono quello che penso io sono quelli che penso io ma c'ho l'inventare a pieno porca troia cannola seed esatto minchia sono più avanti di me sono un po' più avanti cioè un po' più avanti hanno fatto un po' più di robetta di me vabbè torniamo a casa nostra che è più o meno in quella direzione forse avrei potuto mettere un waypoint di casa loro ma vabbè lo stesso ragnazzo lasciami stare ecco casa nostra minchia siamo vicinissimi vedo la mia colonna poi vabbè so che il teo c'ha un farmer salvato per cui posso andare a scroccarglielo da lui basta che mi preparo il buon meal aia cosa mi ha colpito ah le piante maledizione chino ma se lo appo adesso stream labs dici che va in conflitto mi tocca riavviare la live casa dolce casa ce l'ho fatta dovrebbe funzionare ok allora facciamo così stream labs devo solo avviarlo giusto non devo farci nulla di più ok l'ho avviato beh almeno la chat si vede ma non so perché se non scrivo in chat io non la chat non parte boh vabbè ok allora lì c'è il buon meal uh un bel po' di ossa ottimo maciniamole e facciamo il buon meal prova a togliere subscribe e a rimetterlo Kira in teoria dovrebbe venire fuori in teoria ok 6 so che sarà noiosissimo adesso che mi metto a macinare tutta sta roba ma macina 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 un attimo che scrivo al Teo te ne ho salvato uno dentro al villaggio è in una casa di tronchi ok solo che non mi ricordo quanto boh mill volesse no 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 oh vabbè boh mill boh mill quanti ne abbiamo? 8 ok allora direi vediamo cosa possiamo fare con le rape è solo cucinarle beh mettiamole a cucinare perché tanto ne ho di scorta e ho un bel po' di semi ok perfetto se non mi sbaglio ne ho di scorta si ne ho di scorta ok allora canne da zucchero stanno salendo ma al momento non mi servono allora vediamo cosa ci richiedono le quest fare un tomahawk se non puoi locare una riservazione da un'altra acqua è un po' di ogni signo è una differenza di luce ah ok striner vediamo come si fa allora scusate ragazzi mi sono mutato però mi è parito uno sternuto in prima categoria stick e la net si fa twine o le stringhe e le stringhe si fanno con cosa ah con una pala e col cotone cotone ne abbiamo però mi sa che è meglio che mi conviene fare la quest del cosa ho creato ok allora vediamo se funziona piratino bot al momento non mi è arrivata nessuna notifica neanche da da OBS si si immaginavo che era la tua bot nope non mi è arrivata nessuna notifica neanche su streamlabs al momento al momento boh vabbè vedremo qua se viene fuori qualcosa allora ma magari allora adesso mi è arrivato mi è arrivato ho sentito il suono vediamo se viene fuori in live vediamo 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 no non è venuto fuori in live almeno io non lo vedo allora add marker qua casa ok perfetto boh forse devo avviarlo prima di fare la live dove stanno gli zumbini oh figa minchè c'è ancora qualche villager qua in giro però non riesco a identificare dove cazzo allora uno è qua ok è un butcher non mi interessa vediamo se questo è un farmer no è un fletcher ok non mi interessa andiamo dal Teo sì no ma tranquillo al massimo stasera sono a casa domani sono a casa per cui al massimo ne parliamo con calma in questi giorni tranquillo nessun problema allora il villaggio del Teo è qua villaggio ok qui basta andare in linea retta a sto punto mi metto anche le coordinate di casa di eccola là di casa di Fraste e Revan però in teoria inc 12 mettiamoci al sicuro oh però ne hanno fatto di robetta allora libro Fraste Revan ok adesso per uscire ok e se non mi sbaglio casa del Teo dalla parte di là sì è dalla parte di là mi ricordo questo strapiombo amp prendiamoli perché mi mancavano da casa quanto ho spazio ancora in inventario un cazzo di spazio in inventario devo smetterla di correre giù di qua vediamo se l'ho messo l'ho messo ad occhio il punto vediamo se l'ho messo correttamente o meno mi sa di sì perché queste scalette me le ricordo minchia allora qua dentro c'è il farmer se non mi sbaglio no ho lasciato il bombillo a casa ho lasciato il bombillo a casa ma porca di quella troia ho lasciato il bombillo a casa fiii che rincoglionito che non sono altro lol ha ha Porca troia, ho lasciato il bombillo a c... Dove cazzo l'ho buttato il bombillo? Ok, vabbè, capita, io finché aspetto l'host che torna, mi faccio un buchino nella terra e sono sempre pieno, porca troia. E vado un attimo in bagno, arrivo subito ragazzi. Ok, vabbè, vabbè. Ok, vabbè, 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 vabbè. Ok, vabbè, 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 vabbè. Rieccomi, scusate. Eh, son contento Chiro, dai. Allora andiamo a prendere l'host Allora andiamo Non pensavo che la mia voce fosse così tranquillizzante Non di qua che muoio malissimo Ok Poi se mi fate anche domande o altre Magari cacchieremo un po' Ci passa meglio anche la live Cioè magari mi viene anche voglia di Cioè so cosa dire e cosa fare Allora Ecco l'host No no i ragni sono base Mi sa che la texture l'ha rifatta il tipo Ma i ragni sono base Ci sono sempre stati in minecraft Come i creeper ci sono sempre stati Ok Ok Come era una scatola orciera che rompeva solo le balle Ok 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 e vai anche l'host ha fatto la quest e ti porto dal farmer seguimi qua c'è il farmer non so se sia a destra o a sinistra quale dei due guardate la prima volta che ho a che fare con mine che non sono messato uno che farma tanto quindi aspetta che arrivo a leggere che farma tanto quindi nel mio genere di gioco diciamo che mi fa venire voglio giocare a 7 day ma solo perché sono tutti e due pixelosi ok l'host ma non so se possiamo rifarla adesso però ah sì nella cazzo nella crafting table normale dobbiamo arrivare a fare la crafting table porca cazzo ma porca ci ho giocato un po' ma non tanto io l'host vado a casa che tu sei un pericolo pubblico perché mi detesti ma guarda che è esploso vicino a te c'è anche la registrazione in live è esploso a fianco a te no guarda che è esploso vatti a rivedere la live tu eri attaccato al alla finestra il creeper si è avvicinato ti ha guardato ed è esploso la colpa è tua amica è mia scusa se stavi scrivendo colpa mia che bella avere la minimappa a me l'unica cosa che fanno è darmi una spinta e ma tu che devi guardare dalla parte tua non io dalla parte tua scusa ragno e zombie quando si lagga non è il massimo è lo zombie che non ti lascia nulla cazzo vabbè almeno sto raccogliendo patate a manetta ma la farla è una hand per cui devo aspettare a farla non posso farla subito perché se va fatta nella crafting table quella normale porca zazzo basta anche terra e bombini in craft di personaggio ma buona buona questo buona buona Prepariamoci l'orticello. E' vita in più. Cazzo l'ha aperto. Vabbè. Allora. Ciao Lost. Caffè. Barley. Rashid. Seed normali. Cotone. Beetrox. E poi ne farò altre. Ok. Allora adesso devo fare la chest. Allora aspetta. Prima facciamo la chest. Che la chest base serve. Uno di quelli. Plank. E plank. Allora posso passare a fare la seconda chest. Basta che prendo la corteccia. La corteccia se non ricordo male si prendeva con questa. E per fare le plank. E per fare le plank. E per fare le plank. Manual chopping block. che è un chopping block. Che è un chopping block normale che si fa con loak wood. Ok. Allora prendiamo loak wood. Mettiamolo qua. Chopping block. Perfetto. Mettiamolo qua. 5. 5. 5. 7. 5. 6. 7. 8. 8. Va il tizio che puzza. Non entrare in TS. Non posso entrare in TS the Teo perché sto... Se no ho la gomma netta, purtroppo. No, non è così che si fa? Ah, ok, shift, tasto destro. Ok. Sì. Ok. 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 Almeno posso utilizzarlo. Non va sprecato. Ok, allora. Serve uno di questi. Servono i sassetti. I sassetti. Sassetti. Se non ho sbagli, potevo farli anche dare a cobblestone i sassetti. Esatto. Ups. Mi sa che ne ho fatti un po' troppi. Allora, questo qua. Nope. Momento di lag. Allora, vediamo un po', mettiamo giù la dirt. A rotta in flash. Mettiamo la giù qua. Poi vediamo. Allora, plank e plank. Però mi sa che se ho finito le plank, queste qua, per cui devo farle. No, ce le ho qua. Ne avevo altre. Questo basta che lo... La cazzo è l'ultima. Ok. Allora. Plank, 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 plank. Plank, 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 plank. Storage upgrade, perfetto. Poi se questa la mettiamo qua e queste le mettiamo così. Ok, abbiamo la cesta, quella grossa. Primal chest advanced. Abbiamo un po' di spazio, non ci credo. Abbiamo un po' di spazio, abbiamo un po' di spazio, abbiamo un po' di spazio. Ok. Allora, in teoria dovrei cominciare a convertire tutte queste ceste in queste ceste. Ok, ok. Allora, un wooden hopper. Vediamo come si fa. Hopper, allora. Wooden hopper. Una cesta e legno, per cui mi serve. Plank. Che a sto punto ne tagliamo un po'. 16, ma facciamolo ancora un po'. 16, ma facciamolo ancora un po'. Centro, punto ne tagliamo un po' di spazio. Allora, i sassi che li ho messi qua. questo possiamo metterlo io questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua al momento ok una cesta due ceste e direi che facciamo anche la terza sì se magari metto questo dentro ceste poi per l'hopper serviva dimmi che hai un letto e puoi dormire nope non ancora guarda che è la prima volta che arrivo fino a questo punto ok allora serve altre plank per cui questo intanto lo mettiamo qua qua ci abbiamo il legno mettiamolo qua vicino ok 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 Ok, allora, hopper, una cesta, ok, se non potete fare una cesta, non potete creare una cesta e una cesta più funzionale, ok. Ciao, benvenuto Fraine, scusa se purtroppo non si vede il fatto del follow, ma ho problemi con il programma, rimedierò, comunque ho appena letto che ti sei iscritto, benvenuto, ti do il saluto così al momento, però, vabbè, piuttosto di niente. Allora, cosa devo fare? Allora, minchia, 5 string, 5 string, 5 string, 2 string, semi di cotone, i cotone sono all'inventario, sì. Allora, vediamo come si usava, con quello, ok. Questa qua, questa qua, e ho le stringhe, perfetto. Poi mi servono degli stick, che non posso fare così, yeah! Andiamo a caccia di stick, uh, ho salito il cotone. Ok, mi sono fatto un po' di stick, ciao Kira! Allora, la co-web, ok. Poi questo qua. Ok, no, questo, questo, ok, mi serve ancora uno di corteccia. Vediamo se posso farlo anche su questi. Sì? Ottimo. Ok, quanto è un... 11 di corteccia, perfetto. Per il momento ci può anche bastare. Allora, va l'hopperl e la ragnatela. L'hopperl è al centro, la ragnatela qua. La corteccia qua. Ok, abbiamo fatto anche questo. Hopper that move item and keeps block above it hot. Flame grilled goodness. Ok, questo. Uh, cazzo. Uh, cazzo. Red cheddar plank. Atotemic ceremony, ok. Ok, 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 ok. Per cui finiamo di fare le altre quest. Fluid platter. Fluid. Manzanita bush. Uh, manzanita bush. Tumblewet o der manzanita bush. Magari ci rifacciamo anche armi, va. Uh, catena pochissima di stone. Un'ascia. E un'altra palava. Ok, perfetto. Grano mettiamo dove c'è il grano. I semi dove ci sono i semi. I semi. Grazie. Manzanita o Tumbleweed? Manzanita... Trovarla adesso? Chissà quante ne ho viste per strada e non l'ho minimamente presa. Gradiola... No... 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 questa è quella che ci serviva te odio perso 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 torniamo a casa e stacchiamo allora aspetta che mettiamo casa teo così l'abbiamo segnata anche sulla minimappa ok l'abbiamo salvato siamo a posto e cominciamo ad avere qualche cuoricino in più perché stiamo mangiando anche bene cosa ci mancano grano e proteine cazzo di creeper grazie a tutti va bene noi siamo a casa e va bene così chiudiamo la porta e direi che ci becchiamo dopo o questa sera ragazzi è stato bello alla prossima ciao 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 grazie a tutti